Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'ho conosciuto quando si è occupato di protezione civile, è veramente un uomo che ha reso grande, va reso legato. Per quello che ha fatto ha meritato il rispetto di tutti e questo per un politico non è una cosa banale. E' senza la verabilità che può lasciare una persona che si è dedicata agli altri. Grazie.